il dobbere abbiamo iniziato per isa presentare di stasi atlays effettame siamo in cinque oggi c'è anche il gatto non traduci questo va bene sabrina conto da 5 a 1 e ti connetti a isa 5 4 3 2 o no dimmi se la vedi si la vedo davanti a lei c'è una mosca gigante e dietro vedo lei tac vittoria uccia di messa cron a cron e cosmi a ruffo ha stato un buco mi sfascia di le di passare davanti alla mosca e di darci il suo permesso dopo questa rassi c'è praticamente la mosca con le ali la l'avvolge la cobre cerca di non farla passare tamu ha fatto ai segni e possa farla edisa perché permette questo l'attacco risanata postfala che lei non lo sa ancora gli astegni e fiera comma motta caprate una sama facciamo le piovere in testa a tutte le informazioni delle nostre sessioni e vediamo cosa fa per terra smirna is poi no informati che conosce il successo faccio metà troppi ok adesso la spostata è venuta avanti e vedo lei con la fisionomia di oggi la cozza nuova terra sta nuova foto i trasferizi attacca contagi sto togli abbiamo la sua autorizzazione quindi prima mai ai posto la nina stessa tac ok come si chiama la mosca mi accionosa fatamo a jenny jenny ok è un insettoide o altro poi in settore che caccia in una rata io la vedo proprio come una mosca gigante grande altezza uomo su due zampette video quindi un umanoide mosca c'è di faggettua come noi da buca si uomo bosca però alle zampe come le mosche no che è tutta santa che è comunque un film vecchio vecchio ma famoso degli anni mi sembra 80 che la mosca che è un uomo che poi si trasforma in mosca per volta che si è un capo fatta che c'è di santa volta che non si trova che conosce se va bene come l'avete risa a quanto vibra io ci sia presunto via isaia con i tipi grazia 500 mila pinza di scienza mila o milioni 500 mila pinza di scienza ok che secondo il la tara di sabrina praticamente niente noi ci muoviamo sui miliardi tra l'indar mania vedo che scari a com sabrina che è stata pronta forza maluca ognuno ogni medium a una sua propria scala bisogna capire la proporzione su casa e tela patano la vedo paurosa è molto paurosa vittoria un paio non stracu tu a quanto libri ai faiati pratica 7 miliardi scelta miliardo edita quanto fibra 5 miliardi e mezzo pian cipo ma traduci lo scusa un miliardo io vivo alza le vibrazioni di vita 7 poi mistero si traccia del decennio non lo fare tu invitano ad alzarsele e mi pare la stavo anche con la famata troppo fatto ok la vedi meglio edita però sapete siamo la verità sorride non stava male ma cinque e mezzo e miglior e 7 miliardi 5 e mezzo scelta mezzo alla pinna spingi può va bene il tuo corpo emozionale sabrina è pulito sabrina che facciamo emozionali a stare ciò sta sì c'è solo un po di stanchezza della giornata sa che stasca svantana quello di edita avete te mentre abbiamo alzato le vibrazioni in realtà accade sempre anche una sorta di pulizia quel momento quindi qualche residuo va via come c'è che non c'è che in post foto ok allora adesso guardiamo il corpo emozionale di isa e vediamo tutta questa paura se da sola o ci sono anche altre emozioni tutta rosa faccio me se c'è un mozio non è moglie 6 abatto ma che è passato in stracassone c'è che scena ogni schermo che allora paura ok stracca questa paura anche la paura di perdere ciò che lei ha conquistato quindi è doppia test tra che siano zone rossi a stanza o nero sciocco ne ho finita questa test tra che sa che potvo in cioè è una paura nel nell'agire e una paura nel quindi in agire a livello di fare un'azione e una paura nel perdere ciò che ha che ha conquistato c'è richiesto straccia di giovani ma ora stracca tratta niente cosa dice avuta voce ok triste la vedo a volte che mi mostra delle scene che piange quando è da solo a volte poca cosa che metterà sennettore tasami 4 che ti siamo in sicurezza mi è per noi queste sono le principali si può fare guarni schermo che considerando immaginando un nastro che parte dal momento in cui è nata e arriva fino ad oggi dove inizia inserirsi la paura io al momento 3 euro ci vado gis che c'è tempo anche stata uscita mistrack mentre lo visualizzavo questo nastro sono andata mi ha portato in altre vite non può tanta quanta situazione a prova gilamento in corretti ne è stato 3 2 c'è sempre facevo c'è una vita con vedo il padre l'ha fatto vedere subito vedere che il certo l'età mi è ho incerto però sami dopo casa ma dimostra una scena dove lei era lei era una schiava e l'uomo la frustava sulla schiena poca se mistrack tra i due anni fornizia oia che c'è una strana costa in quella vita il l'uomo che la frustava è il padre di oggi c'è dietro questo ricordo e ha ripetuto l'esperienza in questa vita ma la paura si è ricreata in questa vita o è portata attraverso una vita e l'altra c'è testa con il signor fa stante cose certe esprie coppamenti a un stante cose che c'è c'era una nuova tramozia la paura se la porta finché non risolve la risolve a livello emozionale di comprensione del discorso di una bassa autostima quindi torita stracca un argomento tardi cognos fa sovonto pochino sviluppo problemo emozionale ricordi tutti i concorrenti ogni schepo c'era vostra infartoci vedo che è come se ha il suo schema che ripete fino a che non lo comprende presa qualità che vuole strama cresce portata i venti si è portato a tocco dopo che io non sapere tanto dopo chiamata con il rosso metà pochi sapere tutto conosciuto mi l'ha per caso compreso in un altro vini c'è fin se c'è la sua data costruzione da voi c'è tutto solo su me se l'avesse compreso definitivamente non non lo ripeteva in questa vita comunque in qualsi ha iniziato a comprendere è un'istrosomia a topegne torsco adotta i situati che c'è portato c'è troppo pezzi da non c'è cioale saccava poche non c'è stata cava rosomia e certo oggi va bene il padre era alcolizzato violenza verbale violenza anche un po fisica da bambina sia su di lei sia sulla madre oggi li ricordo di questo padre alcolizzato lei pensa sia la causa dell'insonnia oi c'è c'era pezzo alcoli che è barzo a crescerne la nostra stocco donna chito mamma io ho una messina cioè poi sono i miei obiettini passano sci allora il padre io lo vedo che comunque gira intorno a lei durante la notte vedo la scena di lei che dorme con con quest'uomo questo lo vedo vita stanna fattore isa spiega noi c'è trova con il fuoco unito il legger malo si è nato casa per smart way se nella casa potessi ma se lo vedo la cosa dipende da lei nel senso vedo spesso che lui è come se cercasse qualcosa da lei come se volessi comunicare con lei come se ci fosse un qualcosa di non sospeso mi dà mi viene città tratta ecco e poi ne faccio una capacità questa modifica ma questa scelta sostava ogni niente signora nero siano sana però la domanda dell'insonnia quindi vedo questo ma c'è anche un discorso di abitudine a livello fisico nel senso che lei è sempre avuto sempre questo questa problematica e la mente allenata in questa maniera quindi l'interno c'è questa non basta noci all'altro che strano è questa che è che c'è tra ieni e poi i passi come se c'è una cosa che costano ok e nella nuova camera da letto dove isa dorme male il padre si presenta certe nove un pacco io credo che passa da da un corridoio da una cucina un corridoio e arriva lì quando lei valla lui è la causa della nausea quando lei va in camera da letto e thonis c'è no no c'è cosa ha fatto cofa direi di sì perché in quel momento lei nel momento lei ha paura il santo che ha paura e lui comunque come se arrivasse quel momento intorno a lei staccato c'è noi vita già portata cosa un'altra mancia trova stracca che non tra me e faconi parla aspetta perché questa nausea o malessere però non lo provava nella vecchia camera da letto della stessa cosa ha dato ogni atto a te conosci stiamo stare un po quello che c'era che si spava stavo dicendo infatti è come se in questa stanza vedevo la mosca che abbiamo visto prima te lo stavo dicendo proprio questo c'è tanto profite spagnolo soltanto il pacco io facevamo tanto a un mucca tra i muciano portano con la vecchia nella nuova testa se la nuova accoglio nella nuova stanza c'è la mosca anche della camera da letto ok ogni nata cosa 9 un pacco io poi stiamo a ma è quindi la nausea dovuta sia alla mosca sia al padre al discorso energetico del padre si cerita un certo note con i nostri sono noi che c'è che tamu quando facciamo in arcata va bene vediamo un po di cause esoteriche paura ad aprire lettere ufficiali avvocati tribunali bollette e 3 6 mesi in un problema emozionale non ci siamo che una mostra cocktail che usandava pisma allora vedo la mosca che comunque molto presente anche a livello emozionale suo vedete un mucca mucata e sbarzo obiettiva la mente non facciamo emozionale mise e poi questo ne deriva anche un legato al disco c'è la cosa centrale la paura quindi la pura anche di affrontare le situazioni che poi la devono portare a ad agire quindi il attraverso generale gli stimi problemi alla strada che un po ne faccio una fatta questa un po che c'è chi c'è list c'è che spesso ma c'è un po come scuoniamo tutte capo e java c'è una tutta il nuovo bollice tacco giovani e come rimanere ok caso sottorega di guidare l'auto paura di guidare l'auto se c'è nella telecina stracocciate io stiamo facciate che eravano guidare la macchina l'auto quello che sia come affrontare il mondo affrontare l'esterno e poi è quindi una paura a livello proprio di sempre di che possa succedere qualcosa quindi è un discorso di zona di comfort è legato sempre alla stessa emozione il tot covo da oggi tutta estratta che stasmo 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 conforto per però vedo gli edl anche quando mi hai detto della causa esoterica del guidare ho visto io vedo due dl che le girano entrano escono dalla testa il tot covo gli stabiliti a tutte le ferie state scuola poi c'è un angelo anche dietro gli edl vedo i due dl dietro un angelo esatte mi devo mai stati amici e cristo e noi ma oggi totale otto rispetto a me e lo che guidare l'auto rinunciato ha però imparato molto tardi a guidare la bicicletta ma ha sempre paura di andarci ogni tra più anni che però fai a te vi è colpita gesto la nota ma c'è c'è una profonda trattata ma cannes tra chi edl lavorano tanto su questa sua paura ma è la stessa cosa e ha paura perché deve prendersi la responsabilità della sua azione di portare il mezzo takna proud ma si è aperta questa ma c'è nato paese non sono i giovani tecnici ciclist e di affrontare eventuali problematiche sulla strada come il discorso di aprire la lettera la bolletta eccetera è legato è stata la sua famosa ma cosa 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 che assistenza tuttavia propone ferrani o tecnici possiamo uscire proprio lo stato di chaua e chissà tuazzi che c'è causa su tecnica dell'auto sabotaggio diciamo che quando le cose le vanno bene e quando fa delle cose che le piacciono arrivano sempre degli ostacoli come pagare una multa per spendere dei soldi o disturbi fisici c'è non è stata l'autosabotaggio io siamo prima una volta in godetà si fa in ecco 10 video ce lo sarà spot antonio di tosene catturna e conosce quattro cascara ad esappuazzegna perché il problema non possiamo iniziare a fisici ma come se lei non ritenesse possibile per se stessa di essere felice non se lo concede perché buona fa sa ma non c'è più c'è bene spagnia stava attira una cosa che le piace una cosa felice e positiva e subito dopo non non percependo la possibile automaticamente accade che la belle c'è lì c'è un cato si può sottolinea cosa si è piaciuta che ogni buono sliver totta totta stai st da niente da otto fanno i poteri tra cito st le quelle le piace camminare ma è subentrato un problema di tallone e quindi lo può fare poco o molto raramente chi ha fatto subentrare il problema i talloni e nasce quattro i partiti il partito di santrucchi al poi che stasse poi riflessioni problemi spianta niktos pra che usate problemi se poi arriva i capi della mosca che sono delle mantidi che fa fiete i moche il soltanto moslischi e e vedo anche sotto la pianta del piede alla fine proprio sul pallone come due ferri di cavallo sembrano piccoli fatti a misura di pieno e buono che seguono il tallone se data toccava fitte no busta o parte c'è pot cofeta che ma con il proprio stato presto fuori quando quando stavo piente quindi se fossero i piedi di un cavallo sono al contrario sono da soli indietro esatto c'è ricca petto stop a coniata sono questa forza perché sono messi così questi impianti l'attaccata in planta sorta che sposa potruttano e lei ha accettato questa modalità per il fatto di camminare una cosa che a lei piace ok e scusa mai non ha dato attraverso 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 e quindi che lo faccia tramite permettere a dell'entità di bloccarla che lo faccia lei da sola con con la sua mente una modalità per fermare sempre il solito discorso cioè ciò che lei lei non reputa possibile trovare della felicità a fare le cose che le comporta anche un'azione e quindi un affrontare l'esterno è tutto questo discorso qua c'è tutta come se faccia si ottenga bene post valla sopia not trovani e ttp c'è nocci poi la sua parte di mosli fasciano sanista niente cosa robic e sta spostata per tutta i test tacchino di canta cosa la posta voliva in nato ok questioni fisiche causa esoterica dei problemi alle articolazioni del lato destro soprattutto dita traste problemi si spominava un uomo problema problema cosa stavamo il problema spalzami e guadoni io vedo che stai muovendo dita che stai muovendo io vedo degli impianti qua vedo tre pallini di ferro avete tanti implanta e tritoni sono colchita che potrà smetano vediamoli tutti questi tre che abbiamo visto che sono legati poi i talloni che sono passate piente la lo stomaco l'inizio dello stomaco una torsione che mi cammino c'è stato lasciato montac poi vedo come se dalle da quelle ferri di cavallo diciamo così che andai i talloni partono anche dei filamenti che le vanno sulle gambe per la fanno sentire molto stanca una terpiente hot pot corta la cosa non per tacchere che sta che cap lei troppo fatto io tutto snorchito porto di una mancanza è come se fossero dei filamenti che collegano questi impianti con le gambe dal tallone e arrivano fino a questo al braccio alla mano quindi alle articolazioni dicendo che nicita che capo la vuole cercano di farla sentire pesante il tavolo nato ma c'è da conciugava gli impianti sono finiti sono solo questi tassi cresciva già in pante si ok causa esoterica dei problemi al tratto finale del dell'apparato diciamo intestinale problemi allora c'è un impianto che abbiamo visto prima tanni in plan e poi vedo delle abduction che utilizzano come se viene aperta le vengono fatte del qualcosa a livello proprio di questa zona qui e vedevo prova geniai che c'è frente a quelli omos ferrari e di soltanto braione ne vedo come se a volte le manca pre del fiato per questa cosa vedebbe francia fa mi preoccupavo di costa capo foto con tre sull'addaction al mese il raios mi scienziate comprovate 89 o c'è un bel po causa di sottotica delle vampate sottotica ronza ed è la grande sudorazione pozzani si lavora a livello di abduction di lei quindi comunque il discorso reazione fisica c'è oggi tutto io te ho prova geniai tra te che c'è nato e poi vedo che è un discorso di emotività come se passasse da momenti di sbalzi di umore che le provocano proprio a livello ormonale come se sia io vedo una scena come se lei a volte si emoziona nel senso negativo nel senso che si agita di fronte a all affrontare alcune situazioni quindi accade questo vita c'è una testa proprio sto staccato spusano che si stavano ci trovano ok ci sono due incidenti due cadute da una sedia una in un anno dopo la morte di un di una persona cara e la seconda durante una pulizia karmica cause esoterica si sono collegate risamo che andiamo tra patica che tanto un po scherci si fa crack del spatua stavo retto a trucchi e fati santa c'è da nostro brocco del porto staglio karmic non c'è mai un sponso c'è naso trecno quello che vede che questa mosca molto attiva su di lei è come se vedessi che viene spinta vi trattato un mucca potremmo che c'è una francia di sapo con una volta che quindi sono interferenza rivediamole tutte dalla più piccola la più grande la teresa pacchino che interferenze online mi ha scelto lo so mi cura ci sono due dl e il quell'angelo devi state certe sta più stanno in anio come se si intiamo ai termini schif poi sopra ci sono degli umanoidi che sono comunque in settore di però sono umani cioè sono umanoidi vedo la testa da sono diversi da come come mosche e come comunque come insetti sotto c'è 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 ma noi c'è nita come noi ci sono belli e non bell'aspetto vedo dalla tua espressione che staccato la vita ecco per la sua fase no orribile si è contenta di aver visto queste belle cose oggi certo ma io ricordo quell'uomo l'uomo mosca del film era veramente allucinante staccato ammucastico fermo tramo felice ma buona parte in sua nuova vita a trasformarsi in mosca e iniziavano a venirgli dei peli di mosca sulla schiena ricordo questa cosa ma la pratica con città ma che spiegata che boschi temo che si è poi vedo che muovono la bocca e fanno del muco una cosa non bello la vita a trasformarsi che è un po fanno la proboscide della mosca c'è rimanata che è come se entra e esce qualcosa perché in realtà poi il corpo è a forma sembra di uomo con le conne però le zampette da mosca libri di quanto capirete posta certo che casano cammino c'è c'era oggi oggi spavrottano steve bocico ok saliamo ci sono i filiani per chiamata la rai c'è una cosa tra italiani li vedo i dati li li vedo nelle abduction che italiana vita potrà sopravata come se la trasportano proprio a livello come se sono loro che vanno da lei a prenderla diciamo così da ogni tanto ne sopra un po faccio sopra questi mantidi sopra questi umanoidi insettoidi io vedo direttamente l'aquila temi comanoidami muhammi fit per spaccio l'etnia orva l'aquila audino coraggio rifacevo tela sempre la lo vedo con la sinistra spezzata ma va bene siccome stavo per affrontare la mania d'accumulo e non solo di isa chiamiamo anche tutte le interferenze del corpo mentale mentale sarà scesa il mio problema ma spera a fare guise alla testa che interferenti mantana le cause esoteriche del volersi radere i capelli dell'accumulare le cose nascondersi le cose per poi non trovarle e di dobbè obbligarsi a doverle cercare perché c'è nasa trecina accumulo faglia cerchere domo c'è in cio collega sapiena crocet co cofe ora se fatto già un creerà allora quello che vedo è mentre l'abbiamo chiamato è come se mi arriva vedo sempre come un fumo nero quest'entità mentale artificiale come fumo nero dal settimo livello di vita di stato e mentale poi mentre prima erano più sfuggenti adesso come se sono più s italia che poca pesassi quindi accumulo di oggetti disposo phobia nasconderli per poi doverle cercare il settimo livello cioè di sposa fa piazzi fa un crefano in realtà il discorso di nasconderli per poi trovarli io lo vedo un pochino più su rispetto al settimo un pochino più verso l'ottavo dovuto un pochino più pesantezza mentale sono un po più grave nel caso di nisa quello del settimo è quello dell'ottavo e acciona se vai ho fatto con gli 70 cittadini che facciamo vita non so smego ronny e jack dice quell'altro intendo che muoversa ma nei miei jack vedi i piccoli lampi che ne costituiscono il corpo c'è fede già che c'è una buona buona scelta che lo volevo dire non solo vedo i lampi mi fa come se vado in sono andata in alcune scene cioè lei mi mostra alcune scene dove accade l'atto e vedo proprio che sulla sua testa mandano da da questo livello un full dei fulmini proprio mi non mi mostra così niente il capitato androna poeschi alla poca stava misa rovni a stenne e che ogni tammani ciavo ea usa french nei cuoves e questi c'è un cliente sfruttare attacchi coppia in chiaro una bosca vita ok e quello relativo al radios i capelli attenzione con la niente cosa dov'è e come si chiama è come un attore un po già meno sia come scena se fa io il discorso di radios i capelli lo non lo vedo collegato comunque a questa cosa la vedo su sotto tutt'altra situazione tata cangio coraglia sapie cuoveni vita total è stata mi mentali mi vede posto su panin quello che vedo è come se fosse un suo modo non a caso l'ha deciso in questo dopo sessione che lei l'aveva già deciso e fosse un suo modo di iniziare un discorso di pulizia io mi fa vedere questo mi mostra questo in questo momento mi sta facendo vedere lei che si sta già iniziando a tagliare i capelli con un rasoio matosina o sex teme per una cosa che lo ha sforzato tra i process fai questa cosa ciania matosina o sex temi togni per spavolo dopo facevano al ciascino tema risa paretini ma sono possessi che siete un frasiera non c'è nessuna entità mentale quindi c'è chiamato tra i giorni in stato e mentale in gioco e lei stessa c'è la sua mente lei da una stona stiamo per cazzatura solo di questa cosa qui ovviamente alla tre cose non scosta un concreto quando anni fa la cantante britney spears è andata un po fuori di testa e si è rasata i capelli che è successo attaccia stavate che calattemo bretta ispersa con le vostre prima cosa controllo mentale ma incontro non controlla una su completamente totale e c'era un'entità mentale di mezzo avevo a trattare casi stata mancana e oltre a sì c'è una entità mentale di mezzo ma vedo molte entità senza ovviamente andare analizzarle però ne vedo tante come se la vedo circondata da entità e tutte queste entità e come se sono poi collegate a un discorso di mente artificiale quindi di un'entità mentale che sopra le dà alcuni comandi questo tag vedevi state mentale attacca parte del tavo corda che sta attraverso un po con c'è una cosa considera che la conquistata aumentando ancora terminami stato una guetaglia e poi retta c'è stata mai ora vic in quel caso si stava patco tac anche perché diciamo che le azioni fatte da quella da lei erano comunque tutte 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 controllate da entità mentale scottaclaprata proprio a brettene scontrano in questo questa mente collettiva c'è una zona sola dedicata a entità che si occupano di controllo mentale o sono un po tutte certe momeste con l'acte via da casta che mista e cattore la propria tassa controlla un messaggio mentre me lo chiedevi io vedo questo come se controllo mentale è tutta la la mente collettiva artificiale vedo un proprio un disco come posso dire un disco che controlla vita tecnoprata controlla un messo ma siamo sa che sta un collettivo mobile è un controllo già sì cosa che detta non ti ho sentito la mente è già un controllo come sopito c'è la mente controlli e poi però vedo proprio questo disco che ha fatto a forma di disco proprio con tutte lucette artificiale quindi parte tutto dalla quello il controllo mentale e da lì ogni vedo proprio dei fili e ci sono delle sottocategorie di questa cosa che sono le entità mentali ognuno ha il suo dedicato a un ruolo a un ruolo fizzata con l'atterezza che chiede mi fiera chiede scritta che può un altro che mi tesco sa volta che c'è che spettaccia ipotesi sono stati che ho scoperto con i miei stati mentali mi si sono tante tante sfaccettature tante tante sfumature che riguardo a queste entità che in realtà io vedo adesso anche dieci livelli ma in ogni livello ci sono dei sottolivelli molti innumerevoli e spera che nuancio sono stati misto amiche mental nei mirci ci possiamo fare alle carte che facciamo smaspegata che pot potremmo già messo chi è in generale il principale handler cioè programmatore di controllo mentale di brett in spiarsi il padre con controllare mentale brett in spiarsi oggi ho io no io vedo persone mi evite che c'è l'elezione perché lei comunica che è il padre quello da cui si vuole slegare da cui nasce poi il movimento fuori britney adattacona comunico e ci fatto c'è stato che c'è stato ottimo sapore una crescita allora a livello più mentale fisico sì max e io io la vedo da un punto di vista esoterico come se vedessi una seta cioè c'è proprio un direi quasi massoneria sopra sopra e ben appassi a me che se c'è un po il resto ho i cittadini appassi me parti è stata reggina in vita e sfruttare il settimo sapetà con la scelta con una cosa maria vabbè vediamo qui con le entità mentale di isa l'abbiamo viste chiamiamo il cognato ma io chiamerei anche il padre tutte e due divisa fatta la specie di spiagno c'è stata mentale in set a terra stessi ma sarò fanno spagra smarove coi a chi ho l'isola perdonato il padre l'ha odiato tutta la vita ma il padre è un disincarnato nella sua casa gli anni in afici volte tavolo cioè c'è porta a morte parcia c'è stata un grosso di un tempo donato allora il padre lì da prima e adesso che lo abbiamo chiamato si presenta con dentro una come se fosse una bolla barra gabbia e oggi c'è la scoperta ciasi avere tutto il centro far non c'è che sta che i banchi catturai in ita bank ogni tata con klatko ed il fratello del marito di isa il cognato asfa che rise c'è un uomo in lontananza dietro il padre però non si avvicina tanto il cognato gli esaltate ma i 30 voti cari perché non stessa la legna è questa parte tutta la ipotesi più sai ma qui dietro è il momento di decidere se si presenta si presenta adesso per la società della faccia tutta la vicina mettiamo sul tavolo su un tavolo due bei pasticcini alla crema uno per il padre e uno per il cognato di isa la nostra la trasporta faccia statica il primo è per il padre e contiene tutte le informazioni della sessione il secondo è per il cognato e contiene tutte le stesse informazioni del sessione pierce la vita che informati stessi altro che scasso allora il padre ha preso il il pasticcino ed è uscito da questa gabbia poi c'è se diciamo toccato e faccia tutte i quad che poi il cognato si è avvicinato ha preso il pasticcino e si presenta adesso più vicino a me vedo una persona magra con dei pantaloncini con dei quadri a quadri spagher o fino a spesa trattato che era spesa tutta i brios ai fatti a costo poi come non c'è snive spot al cacca cracca stanno uno a destra e l'altro a sinistra il papà alla sua destra ai tata es poi prova estrona a shaker con la fai maggiorno un pasticcino su ferrite cacca sì sì non ho mangiato già tutta la coppa fuori e robert vai serli partiamo dal padre si stacca da tutto quello che è terreno e vuole lasciare un messaggio la figlia cosa c'è meno d'ora i fagni che c'è avuto mangiato che cosa james che sapete mai consigliato uno scelato orchi come lui dice come se non è come se in questa dimensione si sia reso conto di quello che è successo nella vita di lisa lui non lo sapeva quello che non sa che che lei l'ha già perdonato però quello che lui cercava era era ossessionato da questa cosa è come se cercasse chiedesse scusa cercasse il perdono ciao 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 adesso però si hanno alzato perché comunque col pasticcino ha compreso che tante cose in realtà come dire non è che non sono importanti però hanno un significato diverso terra spot si sente che c'è un tocco rec usciata non so che è lasciato ok la consapevolezza del pasticcino è ancora più elevata le vite sono finte servono per imparare delle cose e lui può modificare tutto quello che le riguarda queste vite per esempio può annullare il fatto che in vita era alcolizzato se vuole scherzo c'è una carta son cron son son fix in aion st ma ma in cieco modifico faccio a giocatore faccio coli che lo fai mi sta mostrando mentre parlare una scena dove c'è lui con lisa piccola su un'altalena e lui che la fa giocare la spinge sull'altalena io sto troppo e poi a casa metterà stana che ci sono ma un giocatore con i fascini acquistata io ne ho costa notte costata e cambia cambia quello che è accaduto non è più aggressivo e è un padre più amorevole con lei non è solo questo modifico fa o tos fa io se c'è un tema crescente molto amico trate spargita chi nunca fai onza moita e il cognato che fa a 0 che fa che ero sta lì che sta guardando quello che ha fatto il padre di lisa mentre continua a mangiare il pasticcino ciao e ciao sia dato ciasco i pazzo nato sarò più ho eccezise lui è più giovane come se lo vedo più o meno però consapevole infatti sta continuando a mangiare il pasticcino vedete cosa si fa crack poi sono scelta mostri nella stessa notte di questa metà si stracce che tenete con ciasco il pasticcino non ha fine in continuare e prodursi a ricrearsi passati a skype ne mani ma contra il giardino scontro va bene sì va bene il messaggio del padre se c'è il 3 cascata maestri aiutato il triccino le chiede scusa le chiede perdono lui non sa che non sa quello che che faceva dice era frustrato però scemo la faccia animo che se ne vediamo tra o più sa che ho partito nostro strafana non non riusciva a controllare le sue emozioni e potrà che controllava ci fa i camozzi richiede scusa la scelta patania ok le può chiedere scusa nel migliore dei modi staccandosi da tutto quello che è terreno quindi da quella casa eventualmente da lei questo il portale e andando in nel posto in cui vuole andare ma è l'action spostata una nata per usare caccia i repatri anni che sta però quanto che cosa james che non mi sa mai sotto che cosa sapete a portarlo si apre un portale la saluta si è staccato quando non c'è la scena fa lo sape porta io sa che la città la saluta e è come se va dall'altra parte quindi è già andato che nasce negli psa oggi nato con strano io c'è stampato che strano ok l'esempio di questo parente da parte del cognato lisa o da un'accelerazione della sua consapevolezza perché io ho la voce d'arrico adesso ma c'è quattro e chi d'aura oice che può manca senza niente che ciasca ho sentito bussare dietro la mia porta c'è il cane che sta abbagliando ma non c'è nessuno in casa lucia che cerco ma cosa che non sa che staccare un po' questo ma cosa è spoccato sui bene controllo dalla causa esoterica del bussare della mia voce ai cosiddetti è stata raccinate coppoccagna in cosa è udino che cerca di interferire di fermare vuole moderci le scable odin propone totale scoti il proprio interfero faccio ma la 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 è spezzata ma è ancora lì netto somma nella tavolta fata si la spezzata ma ancora lì tac allora intorno della scena gli è la spezzo del tutto e il pezzo lo butto in un buco di finire un portale definitivo te a cosa tanta testa ne è poco la tre famota 60 portarlo definita fatto che lo ricordi bene il prossimo volta che vuole rompere le balle per chi gli stacco qualcos'altro mi sapeva menta ottene stavano stati nella sanità pesce che ci ha cercato questa moda fatti cinnago cognato ha attaccato la terra messaggio da terra spagliarci natale c'è più nato di gemi ma è consigliata most io la vedo nella casa dove c'è la madre feta si fa grazia tre mesi comama crea dei problemi ai componenti della casa c'è proprio che il problema con costa non mi ha scanto attacco da mo si è come se lui di più del padre non ha capito bene quello che è successo da che si fa che riesce a parli bene però ha capito che crea dei problemi restando attaccato alla terra quindi si deve staccare andarsene da un portale il definitivo alla rosa mi ha già fatto i problemi speriamo che si è andata come c'è non c'è che cosa james che ha toccato a noi ma qui sapete a portarlo portandosi dietro il pasticcino che se vuole potrà continuare a mangiare fino a che finalmente il pasticcino non ci sarà più mi sapeva sapere sta montata stacca e si apre un portale l'altra parte mi mostra come se ci fossero altri pasticcini che lui vuole prendere da qualcosa porta a rivita tam qualcosa di misto in portarlo io sto in ciasco attorno e chi le scrive che ha creati questi pasticcini quello che stavo vedendo stasca è come se lui adesso volesse a vedo come se li ha moltiplicato cioè non moltiplicato scusami il pasticcino è troppo per lui ok e quindi è come se l'avesse presi preso e fatto alti mini pasticcini per mangiarlo e mangiarli piano piano per la parte che ha già stato già scattato ha stato tre o no si aspettate tu sanchez che mi hanno incontrata con tre poggerino sa che mi ascia skype di sto prima proprio sto consuma va bene se questa è una modalità per farsi per assimilare piano piano le informazioni ma a me sta bene l'importante che siano pasticcini derivanti da quello che dal nostro scarota cota chistico febornato a bevati poi città informazioni e togna che troppi forno sapete che ha staccato a progetto a tectore po cosa un po di nostro poi sì perché se sono pasticcino sfoglia la dislessica con capelli neri lunghi non vanno bene il seta sono carta scocco cosci non ha incontrato non sono derivanti dal nostro niente a santa nostra cesta la signora no come si traduce la signora diciamo allora che a fine ha fatto il cognato faceta questa vostra sfa canterà saluta la ringrazia e mangiarsi sui pasticcini non so che nasce neanche in cui è i testa per freddo analizziamo velocissimamente la stris polacca che ha un grande seguito in polonia che si rifà agli alieni e soprattutto ai playa diani tutta la testa crociata chiesa che nien c'è una perna un post con pistarche trama c'è giocati anche non dobbiamo fare niente se non analizzare la sua interferenza assolutamente evidente chiamare tutte e chiamare tutte le persone soprattutto polacche che la seguono per mostrare loro dare loro queste informazioni e trasversa scherzo pector observo io ho sceso un campagna in farmacia allora i playa diani vada quello che vedo ovviamente che comunque viene tramite lei è come se arrivano a altre persone per interferire nelle vite veda proprio state playa diani uso fai anche i panni d'auto interferenzi in ho chiamato le ps che mi ha detto e tutti vedono questa scena che sto vedendo io c'è che tramite lei è come se fosse un un portale come se la utilizzassero come un portale il viso a un pozzare vittoria usata a panni staccato portarlo visto già fanno 8 va bene chi ha orecchi per intendere in tenda cioè chi vuole capire le cose le capisce c'è la trasmessa città l'incontro sono come trasmesso mi pasticcini per tutti ognuno di questi che segue la signora playa diana diciamo a un pasticcino in mano davanti se lo vuole lo prende se lo mangia se no se ne va a quel paese tratta la scelta tratta tratta che scelto scelta un po neanche toccati a cercate informazioni a tonia lei ha radicato il discorso che secondo lei la aiutano mentre invece non si rende conto che le tolgono l'energia come fosse la scarica uno come una batteria con amici gli pomagai a un taglio prato e tolgono saner che compagna un cipriati anni a combattere con l'arcatecino sulla sua testa o cron e ciò con lei non lo prende quello piccolino non l'ha preso adesso sto mettendo sulla testa e come aveva questa tecnica ne diceva tra stato sapata in agosto intorno vedo tutti questi uomini biondi ok oltre al pasticcino adesso scriviamo a lettere cubitali sopra la testa della signora e sopra la testa di tutti quelli che la seguono la seguente frase tutta la natura avanzano note i panni che tecno sottotore tam mi follower a me perché milita ramina piaccia ma c'è una stampa è possibile dare ancora retta ai pleiadiani nel 2021 punto di domanda c'è fra quattro a te svegliatevi punto esclamativo una serie a pubblica i felchi vecchia knick fatto questa bella scritta gigantesca sta lì per sempre ti la leggo nella rileggono in centinaia di volte e poi se ne vanno da un'altra parte è una cronina pista cosa spagna nasa in scantano città iungo mi e tutti gli uomini biondi pleiadiani che vedi lì e tutti i pleiadiani da adesso in poi non potranno fare a meno di avere questa scritta che gira come quelle dei fatti di led pubblicitarie di una volta sulla loro fronte così che tutti lo debbano leggere per sempre e per la successo blondeni pleiadiani e bando merita tannapis cattore campanze dice una tol e carte totale 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 pop il pop il sopecino società c'è una pista per se nessun pleiadiano si può sottrarre questa scritta proiettata sulla sua fronte per sempre e quando dico che siamo creatori siamo creatori quindi io credo questa scritta per sempre che tutti devono vedere come è stata creata rapista un creatore mi crea una piscina di carta perché manca cercata come se loro adesso li vedo e camminano con questa scritta davanti e la guardano vederà se accorgono stimiste una pisa natale i patron patronata una pisa ok c'è qualche percentuale di persone che seguono la pleiadiana chiamiamola così che se ne va c'è tasse posto pittore leggi portano niente i panni tra le informazioni e rosa con noi se le tenete i panni adesso in questo momento 30 per cento ma vedo che questa cosa nella parallelamente aumento la percentuale aumenterà il momento esiste però tante cosa parecchia strassata tempo tante cosa con queste condizioni tra un mese il 30 per cento diventa un ciò passa a fare un caccio di sti però tante amici and spendere la fena cibo non la segue più nessuno di il 30 per cento non la segue no sì ma questo 30 per cento aumenta e diventa un 31 32 58 ok ok ma vedo 33 34 35 in continuo movimento effettata di una prata cosa sarà stata l'età costante quindi si ritrattano spangere c'è anche un mese a quanto asami shansi la pancia stesso gesto però tanto guardo per non sarà scelta tutto il gesto sta gesto tra tanto poca quindi per capire la proporzione va bene tra un annetto la signora è finita isa isa si cosa vuole fare la stessa trapecisa che stavo da scelta castra è assolutamente inutile andare nel suo corpo emozionale possiamo andare direttamente nel cluster a un sacco di informazioni vediamo cosa fa da subito siamo facili c'è ma c'è non la notazione c'è a trato dei costri sapato mezzo a una famata poterò che mi mostra il cluster come un ammasso di giornali poca suimi cluster ea cata che sbiore casa e ogni giornale è come se fosse il libro il del suo patto me lo mostra così ricorda casetta che mi pacta mi ha incontrato li vuole vuole pulire dice non riesce a trattare testi vuole buttare giornali vecchi città ragazzata tra ne tutti i giornali lì a cartoccia tutti quanti apre un portale definitivo e l'inancio c'era porta alla finita neva rotaia ok in questi contratti in questi giornali ci sono tutti i patti e contratti di tutte le sue vite con entità i tiri che con entità mentali e passerò tutto il pacto il contratto sono tanti interferenze che state a trecchi state a metà per completare il processo può andare dall'avatar eliminare tutto avatar postazione computer in un secondo mi ha presa con te c'è tanta cosa c'è d'avatar ai minimi 9 a scoperta per computer tratta uno fisco è come se si fosse resa conto adesso del suo potere vedo che fa il gesto con la mano pulendo prende avatar computer e lancia tutto nel buco insieme vedo scusa però sapete la vostra testa che la conti al com a mozzi e non questa branch e diceva alzato il computer tolta questa notizia di cosa ci vuoi insieme vedo che vanno i due dl che ho trovato un'ottima unità di stati stati scritta lenti da una mosca tamu ha gli impianti netti l'impiantante le entità mentali hai stata mancana l'entità tali lenti da mentali già l'avevo di stea al cluster più di giù io si usano ogni rete al cancro è stata mentale che andavano via nel senso attaccato si dicevi si impianti vedo tutta questa come se me la mostra come un'energia oscura nera pesante che mi fa vedere tutte le entità e tutti impianti e tutto che va bene insieme all'avatar c'è dal momento in cui va all'avatar si porta tutto dietro una pazza matica fatta la cosa cosa stavo e poi cosa imita che sta traccia che implante a posta città che c'è un'energia ok fatto con domani nuova vibrazione ea carista la stessa vibrazia is 3 miliardi e mezzo 6 miliardi pianta per 500 mila ok il rapporto tra psp attuale roma pagamentato somma c'è la materia c'è il tema man c'è piemi piedi più sessanta scelta però center dottore diciamo a terra c'è ma arriverà un giorno in cui saranno più o meno simili c'è da ricettare cosignato sono va che piange sapo piange soltini fianza e vedo sei mesi deve lavorare lei con un discorso emotivo mentale vita facciamo coscia vicenda non ha uscito tre prato facci una pace a me solo con la mozza non è che mentale il suo emozionale pulito che c'è un emozionale questa in questo momento si è pulito per mancetta che è stata la in questo momento la vedo serena più si sente più come se avesse preso forza e reazione più sicura vita e offre ma mangiare sbagli poco stava stata sperata se fai mozza è matta con vengono per la scelta rossi ok e c'è nel futuro di isa un momento in cui lei continua ad accumulare oggetti ea nascondersi lì c'è forci i eserifici situazioni che c'è nata la spiera cioè proprio che facciazza ma che stanno tornata allora quello che vede questo è come se fosse una una scelta mi viene la parola sliding doors non so per quale motivo e vita per questa nuova chat ora vita una sua forza fighting torta che rosso fa naturi è come se vedo due possibili situazioni una è quella dove prende lavora in questo è un punto di inizio per lei e anche se l'entità mentali e la pulizia è fatta adesso deve lei abituare la sua mente alla sua nuova condizione e spenerla avvita rifiutata che rossofana ieri non sono più i mostri fosci ieri di vita che stava una pancia tra sprazzo fa una notte che in fatto che cosa stavo facendo una pagina mental quindi si facendo delle piccole azioni mostra come questa porta me la mostra come se adesso lei prende inizia a fare delle piccole pulizie al riguardo a casa di ria cotta che portano da con la festa che come la temposa delle cose accumulate quindi se l'esempio la domanda semplicissima mi serve no oggi è tutta la trama scuola come lo fa mai stata super petani e piano insieme non potrò che c'è tono però io lo vedo perché me lo sta mostrando però chiaramente dall'altra parte c'è sempre la possibilità che il tutto quello che lei ha fatto tesoro non ci lavora quindi non inizia ad agire e quindi rimane tutto così a lei è stata trucata staccamo di voi sono ogni pancia che quando fa ogni pranzo mi vengiava di vento c'è scapposa stagna postare la nota che la disposofobia tante sfaccettature nel caso di isa è vera la seguente affermazione sposa fabia ma via let farci se non butta le cose resta attaccata al vecchio e non arriva al nuovo c'è le 10 linee verso c'è testate cos'è c'è cosa stagna tani che c'è fanno sana ignociano niente questa cosa ci si è vero anche sta prato quindi ha una bella tovaglia ma i vecchi di vent'anni e nessuno l'apprezza più se non la butta non avrà mai la possibilità o la voglia o la possibilità economica di comparire una nuova sicuramente si allenava di stimare che spien che ne ho brutale partita più moderna all'età che tre con lo snick quindi ad ottene agli sti con i miei risultati si si può spenge cotto ogni bench appena forse si trova di molti foscopini hanno sacco più che in sacco brus si vera per lei questa affermazione così faccio pacco io sto troppo così da questo anni c'è un bravo è un'affermazione che rispecchia la sua situazione si sta scherzando ector o cerce la situazione in parte ok quindi non lo dico io lo dicono i fatti togliamo via attacca muoviamo fatto assolutamente c'è un messaggio finale della parte subliminale di terza che è consigliata ma scontro voti tu sei tu lei dice che hai bisogno di di fare pulizia in modo che io sono scelto un terapici posanti autocratane dice di provare ad andare avanti facendosi spazio tra le cose vecchie di staccarsi da ciò che ora non le serve più non ti serve più muovere tra crocci coppso suosci po che fai inserci che cotta cosa non ci facciamo ma appartiene a un passato che ormai non di cui tu hai già fatto esperienza dice poi andare avanti ai tutte le carte in regola per agire andare avanti non ti serve più niente inizia dalle piccole cose l'indice inizia con una piccola azione prova la sensazione di libertà di felicità di pulizia di stacco da una cosa che non serve più percepisci la e continua a ricercarlo ci sarà scena poco che era una cosa qua testa rabote io vedo davanti giornali mostra dei giornali vecchi sono una mia poca sui e parto lì che il casetto che ci manca senza stare per esempio delle scarpe vecchie tra la potremmo come si tratta c'è troppo non c'è spazio nella tua vita sogno di tra le due cose così non vedi la strada perché continui a coprirti di cose rimanendo attaccata al tuo passato mi vede strada che tra il frattava un po di far scelta la casa tratta scelta stare attento la ragione tra i posti come se vivi nel passato l'attaccamento a queste cose è come se ti privi di un futuro perché quest'avversario a sospetto che hanno sanato tecnico certo che può sbagliare c'è notte cozzata mano dai sui posti inizia libera te ne dice cosa c'è niente fagna c'è cotto voglia la sciottica ma sto toccato vale vedremo finito quindi siccome ti chiede a tutto e tutto. Zatem kończymy rozłąccia z wszystkimi z wszystkim.